...serenzo, più assistente, più volti, se c'è l'intensore, secondo assistente, c'è l'intensore di scuola, due attu' loro, due attu' loro, se c'è l'intensore. Buongiorno, buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.